non c'è un po' di bagaggio ora ci sei stessa parte ormai vai non c'è toto, 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 al rito usami a se rompe, toto, vai fare una maggioranza guarda come si andrebbero dai vai vai ah ah dai faccio i minuti e qui se n'è chiado che usciamo tutta a tutta ma lei ci sei due Xtreme! 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 L'avevo fatta i soldi, eh? Oh, ma dove c'è uno simonroide? Senza a te!